ciao a tutti sono mattia bentornati sul mio canale oggi vediamo l'assemblaggio di questa build 3 pollici con cam full hd la cadix turtle il frame è un clone dell'acrobrat di oh my god e vi consiglio in realtà di acquistare la versione originale io ho testato sia la versione originale sia questo clone sia il clone di banggood e la versione originale è di un carbonio di qualità superiore quindi se potete acquistarlo visto che non costa molto in più si può fare tra questa e la versione di banggood questa è un po più alta quindi avete un po più spazio ma se avete scelto le componenti che ho preso io non vi serve e quindi potete utilizzare tranquillamente la versione di banggood che avrebbe le misure giuste o meglio la versione originale le componenti all'interno ci stanno tutte ma ovviamente non abbiamo gli spazi di un 5 pollici quindi la scheda della cadix turtle è molto vicina al 4 in 1 e bisogna un po piegare il cavo per riuscire a farli stare agevolmente la vtx va bene se utilizzate la 20x20 come vi ho consigliato e io ho utilizzato la versione economica di cui parlavo nel video precedente che in realtà mi ha sorpreso sia come range che come caratteristiche infatti funziona tram telemetri senza alcun problema è una build che mi piace moltissimo ne ho già assemblate altre con questa base e mi ci diverto molto perché la si può utilizzare praticamente ovunque ora vi mostro le foto della build e ogni foto sarà commentata perché questo mi sembrava il modo migliore per farvi vedere bene i dettagli che con la qualità di un video si perdono un po mentre nelle foto ho potuto aggiungere anche degli schemi e penso che aiuti molto a comprendere bene la build che comunque è abbastanza semplice nella prima immagine vedete la bottom plate unibody dell'acrobrat e vedete come ho montato nello stack centrale i gommini e comunque tutte le parti originali dell'acrobrat con le viti lunghe in metallo fissate da un dado e sopra il dado ho messo una separatore in plastica per non far toccare i pad del quattro in uno direttamente con il metallo delle viti nel retro del quad cioè la parte a sinistra vedete che ho montato tutti e quattro gli stand off e nella parte a destra ne ho montati solo tre perché la mia cad è la versione v1 quella senza microfono e con il quarto buco spostato qui invece vediamo come ho posizionato la vtx e la vtx che ho utilizzato io è quella economica di cui vi ho parlato nella video precedente e ha un lato completamente piatto che io ho deciso di mettere verso l'alto in modo da avere un lato piatto che poi ho schermato con del nastro isolante sul quale puoi far passare sopra l'xt60 e soprattutto dove poter appoggiare tranquillamente la ricevente che ho utilizzato vedete che sono segnati i pad del connettore e io ho utilizzato il pad sbass che è quello che verrà utilizzato per tram telemetri supportato da questa vtx ho usato bat più e bat meno che sono per alimentare la vtx direttamente da lipo e il cavo video non ho utilizzato i 5 volt in uscita perché la cad di x start l'andrò a montare alimentandola sempre direttamente da lipo poi ho posizionato gli essi 4 in 1 e vi faccio notare che dalla vtx arrivano i cavi che ho diviso in due coppie il cavo video e il cavo per comandare la vtx tramite trump escono sul lato perché in quel lato lì poi andranno saldati e sotto vedete i cavi rosso e nero che sono per l'alimentazione della vtx che essendo da quel lato ho lasciato da quel lato vedete che ho saldato un xt60 invece dell'xt30 che è incluso nel mamba 20x20 e questo perché io ho tutte batterie che hanno l'xt60 ma generalmente è meglio avere l'xt30 su questi quad 3 pollici perché lipo con xt30 sono più diffuse e ho saldato anche un condensatore abbastanza overkill da 1000 microfarad e 25 volt potreste utilizzare anche quello incluso non è un grosso problema però io preferisco sempre usare condensatori di cui conosco la provenienza vedete che per ora la fc non è montata e andiamo avanti qui ho iniziato a saldare i motori e questo è il primo motore che ho saldato in modo da avere i cavi in una posizione più pulita possibile non farli uscire dal lato e quindi gli ho fatto fare il giro attorno alla vite dello stand off vedete che ho fissato i cavi con del nastro isolante potete usare le fascette se vi piace di più e potete anche volendo proteggere i cavi con un'elica tagliata qui vedete tutti e quattro i motori saldati agli essi e vi da una buona idea di come ho disposto i cavi per avere una build più pulita possibile qui sono andato a montare la fc quindi collegando il cavo che va tra fc e 4 in 1 e sono andato a montare la mia cadix turtle la cadix turtle vedete che ha il cavo verde e nero per i comandi vi serve assolutamente quel cavo perché servirà per cambiare le impostazioni della cam e vedete che da retro escono i cavi rosso nero e giallo per alimentazione e segnale video si potrebbe collegare la cadix turtle a una uart della fc per comandarla tramite fc ma sia qui che con la split io ho notato che non vado mai a cambiare impostazioni se non la prima volta e quindi ho preferito lasciare il cavetto e con i joystick incluso nella confezione in realtà quando vi serve riuscite a cambiare velocemente tutto qui vedete che vicino al condensatore sulla fc sono andato a saldare il cavo rosso e nero provenienti dalla vtx per l'alimentazione sono i due pad più grandi e sono quelli che sulla sullo schema che vi danno assieme alla fc sono segnati come vcc e ground in questi due pad andremo a saldare anche l'alimentazione della cadix turtle e in questo modo avremo un ground in comune tra vtx e cam il modo migliore per eliminare le interferenze sull'osd qui vedete che sempre sui due stessi pad sono andato a saldare l'alimentazione della cadix turtle e infine da questo lato vedete che sono andato a saldare sul quinto pad da sinistra il segnale video in ingresso quindi che arriva dalla cadix turtle sull'ottavo pad da sinistra sono andato a saldare il cavetto azzurro che arriva dalla mia vtx che è trump telemetry e questa è la uart numero 3 quindi pad tx3 sul pad a fianco che quindi sarà il nono sono andato a saldare il cavo giallo della vtx che sarà il video out quindi video che va da fc quindi da osd alla vtx nel pad immediatamente accanto che è il decimo ho saldato invece il ground quindi il nero negativo della ricevente e a fianco a questo cavo saldato il rosso dalla ricevente che sarà i nostri 5 volt nell'ultimo pad a destra invece sono andato a saldare il segnale della mia ricevente e in questo caso sarà s bus perché sto utilizzando una xm plus ma se voi andaste ad utilizzare una ricevente per flysky sarebbe comunque questo il pad da utilizzare avete negli altri lati comunque le uart classiche con pad non invertiti dove potete andare a saldare per esempio una ricevente spectrum che tra l'altro ha alimentazione a 3.3 volt accanto ai 5 volt che abbiamo utilizzato noi oppure anche riceventi di altri marchi insomma qui vedete il quad completamente assemblato in realtà dal passaggio precedente non è stato aggiunto molto vedete che ho montato le eliche che sono le quadripala racecraft ho montato la cam con gli appositi sostegni in tpu e in realtà per l'assemblaggio del telaio riceverete un foglio illustrativo abbastanza chiaro e vi lascio quindi a quello per capire come assemblare telaio la cam state attenti all'orientamento nella cadix turtle la parte con il connettore è verso il basso e poi nel retro io ho utilizzato delle cannucce per inserire le antenne e tenerle lontano dalle eliche come saprete nell'acrobrat c'è questo sistema di sospensione della parte superiore del frame e infatti ci sono dei gommini in cui si vanno ad incastrare le pareti laterali è la caratteristica principale di questo frame ed è il sistema che vi aiuta a non avere vibrazioni sulla cam hd anche con un frame da 3 pollici che di solito in realtà crea parecchie più vibrazioni di un 5 pollici e sopra vedete che c'è lo spazio per montare l'alipo classico nell'ultima immagine vi mostro il peso della build completa con un alipo da 500 mAh 4s e vedete che siamo sotto i 250 grammi in realtà io credo che l'alipo migliore per questo 3 pollici sia sui 750 mAh quindi aggiungete a questi 250 grammi circa una ventina di grammi per avere una lipo maggiorata che vi consente dei tempi di voi o migliore con una 750 sempre tonigigrafine sempre 4s ho superato i 4 minuti quindi più che soddisfacente come tempo di volo considerando anche che sto utilizzando delle pale molto aggressive che quindi non saranno le più efficienti in assoluto come avete visto quindi in realtà non è una build molto difficile perché il 4 in 1 vi elimina tantissime saldature la fc collegata al 4 in 1 mamba tramite il suo cavo elimina anch'essa molte saldature e in tutto dovete solo saldare tra loro vtx cam e motori farò quindi un video poi della configurazione betaflight che è anch'essa molto semplice perché non sono andato a utilizzare una ricevente con telemetria quindi non ho problemi con sboss e la mia vtx con trump telemetry ha funzionato subito utilizzando la uart numero 3 il video che però secondo me è più interessante di questa build sarà mostrarvi come vola effettivamente perché la qualità del video hd che si riesce ad ottenere anche da una build 3 pollici secondo me è molto soddisfacente e inoltre andando a ritoccare qualche setting della hd start si ottiene qualcosa di molto sfruttabile a livello di editing video in quanto si riescono a abbassare un po i contrasti e un po la saturazione dei colori per elaborarli poi in post produzione spero che il video sia stato abbastanza chiaro se avete dubbi commentate nel video e cercherò di rispondere alle vostre domande spero che il video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao